Una conferenza per annunciare la fine dei lavori della Commissione di inchiesta Covid di Regione Lombardia, istituita ad aprile del 2020 per fare luce sugli eventuali errori commessi durante la prima ondata della pandemia da Covid-19, ma anche il momento per sancire l'ufficiale desecretazione di tutto il materiale prodotto dalla Commissione, documenti, atti pervenuti e anche quelli che invece la Commissione non è riuscita ad ottenere, per concludere con due relazioni finali, una di maggioranza e una di minoranza, che tirano le somme sotto due punti di vista politici diversi delle criticità emerse durante la prima fase emergenziale. I lavori della Commissione avevano come finalità il mettere in risalto delle evidenti criticità che tutti abbiamo sperimentato. Abbiamo cercato di raccogliere tutti i documenti e tutte le testimonianze che potessero far comprendere cosa non ha funzionato in quel momento. Ripeto, il nostro lavoro non lo riguardava una parte di responsabilità dal punto di vista giudiziario, altre autorità hanno questo compito, ma dal punto di vista proprio di scelte organizzative e politiche. Io credo che le relazioni possano ben evidenziare delle letture legittimamente diverse tra le varie forze politiche, ma che devono rappresentare un momento di partenza per pensare e elaborare davvero anche a modelli futuri di gestione e organizzazione. Sono state 40 le sedute della Commissione fino ad oggi, 12 nel 2020, 26 nel 2021 e 2 nel 2022, un lavoro importante che però, come ha sottolineato la stessa Presidenza, ha avuto anche dei limiti come la mancanza dell'acquisizione di alcuni documenti, ad esempio dei verbali del Comitato Tecnico Scientifico, che non sono stati dati dalla Giunta, o l'impossibilità di pretendere la convocazione di alcune persone per essere udite, come l'allora Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. In merito invece al mancato rispetto del segreto d'ufficio dei lavori della Commissione, che ha portato nelle scorse settimane ad una fuga di notizie che non dovevano invece trapelare, l'ufficio di Presidenza della Commissione ha deciso di presentare un esposto alla magistratura, segnalando quanto avvenuto. Non faremo una denuncia contro ignoti vera e propria, ha detto Girelli, ma è un dovere segnalare che c'è stata una palese violazione.